La fisica, per essere unificata, necessita le unità esattive, come nelle massi unitarie, come nelle energie unitarie. Oggi il boss è lato in unità. E è vero. In realtà, le massi unitarie unitarie hanno, impropriamente, come massi decimali di massi, le massi unitarie, i poteri negativi negativi rappresentano le antimatterie. In realtà, abbiamo l'unità in N, che è la materia, multipliata da N elevato a meno 1, che è la antimatteria. In realtà, nella teoria della relatività generale di Einstein, le massi atomiche, che sono quantità delle massi unitarie, e le massi unitarie, perché le massi unitarie di massi atomiche, che hanno decimali, antimatterie, come se fossero decimali. Le decimali sono antimatterie, perché sono N elevato a meno 1, ed è diverso da N elevato a meno 1. Le massi unitarie di massi unitarie di massi unitarie. anche C2, in generale, è vero. Perché C2 devono essere la unità dell'energia elettromagnetica, e non è. In realtà, C2 è la velocità, e ogni velocità in linea non è sufficiente per rappresentare la massi unitarie del volume unitarie. se il spazio del flusso non moltiplica la seczione reale di questo flusso diventando un volume. C2, in generale, è unitarie di massi unitarie di massi unitarie di massi unitarie. una seczione reale, che non può essere così, contenendo un mè riuscito a due come unitario e il tempo dell'unità, come i decimali aggiungono a un mè riuscito a due. Quindi la velocità reale non può rappresentare l'unitario elettromagnetico volume. 3 metri ogni secondo è la velocità di tridimensionale della generazione di un mè riuscito a tre, con le tre line di X, Y, Z. Sì, la seczione absoluta, ten riuscito a ten, diviso da ten riuscito a due, che è la seczione absoluta, che è la seczione di tridimensionale, che è la seczione absoluta, abbiamo la seczione absoluta, della scelta staggeюzziata da tre metri ogni secondo, diviso da tre moltiplato da ten riuscito a durante k abbiamo subscripito a ottene metri ogni secondo. Questo è la massima unitaria in veloce, 3 x 10 x 8 e non 2 etc. Questa velocità è come nella direzione elettrica, come nella direzione magnetica, ma è la stessa, 3 x 10 x 8 metri ogni secondo. Bello equerzo a questa velocità opposta, la velocità della velocità è la multiplizia di uno con l'altro, e la velocità di uno con l'energia elettromagnetica. E' l'energia, perché la massima va in una direzione solo, questa o questa, ma è l'energia che va simultaneamente in due direzioni. Grazie.